È stata ed è tuttora una settimana di allenamenti molto intensa quella del piace di Franzini, riduce dalla pesante sconfitta in terra sarda di domenica scorsa contro l'Arzachena, ennisimo passo falso, di una stagione condotta in altalena. Urge al più presto trovare un equilibrio in grado di dare finalmente continuità ai risultati di una squadra rinforzatasi ulteriormente nel corso del mercato invernale, ora più che mai in grado di centrare gli obiettivi fissati a inizio stagione. Arriviamo da una settimana, come dicevi tu, molto intensa, sicuramente non ci aspettavamo una sconfitta come quella di domenica, abbiamo lavorato su me molto bene, abbiamo ritrovato su me quelle cose che ci serviranno per fare risultato domenica che per noi è la cosa più importante di tutte. Archiviato quindi il secco 3-0 subito nell'ultimo turno di campionato al Bruno Nespoli di Olbia, la compagine piacentina dovrà a tutti i costi conquistare i tre punti contro una squadra, la lucchese, che non vince da ben otto giornate. Noi non dobbiamo assolutamente farci influenzare da questo dato perché l'abbiamo studiata, sicuramente comunque la lucchese è formata giocatori di valore, giocatori esperti, quindi non sarà sicuramente facile, però noi dovremmo portare a caso i tre punti a tutti i costi. I risultati comunque abbastanza deludenti delle prime della classe, lasciano ancora tutto aperto in zona play-off, quindi siete ancora in corsa per gli spareggi finali? No, certo, la classifica è molto corta anche per la zona play-off, però noi prima di tutto dobbiamo riuscire a trovare quella continuità di risultati e di prestazioni che ci consentiranno di arrivare nelle posizioni che meritiamo. Il diktat è quindi vietato sbagliare.